bello a tutti ragazzi qui sono giova e oggi siamo su una nuova serie di black ops 3 mi raccomando commentate per farmi sapere se vi piace o meno dobbiamo arrivare a ventilare cosa non ho fatto cavolo già si parte male lo facciamo da della vetra dopo ma chi li vede adesso stai facendo solo molti giocatori ragazzi scrivetemi il supportato ti dici ma mi hai dato un missile in pace ma pure a me ma non so se no ragazzi lasciamo qui eh vabbè si cavolo e va bene e va bene è dei nostri e dai è morto si non sono mono io stavo guardando la tua live all'improvviso vado su posta in arrivo uno che si chiama si si tre trex 0 8 mi dice ciao io dico chi sei non mi rispondo ti è perché quando oh no oh no laveu laveu fight attiva fight attiva fight attiva ok ok che cosa la scuola alò alò ciao campionati fiona attiva che l'assie attiva o attiva 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 Potevo uscirci, però ho sbagliato la mia Che palle BOOM Sono caduto Eeeh, senti Ah, così qua Ma perché? Ma sono tutti insieme Ma bene C'è se ciascui su corpo Sì Oh Ragazzi, dopo tre anni ce l'abbiamo fatta Sì, sì Ok Dai che stiamo puoi iniziare Allora Sì, stiamo attaccati Allora No No Ci mettiamo aspetta che c'è un mitraglione aspetta che c'è un mitraglione enorme che palle però li trovo avanti alla porta camperati e' stralento questo mitraglione ma da dietro? ma perchè sta andando? no dai no 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 ma cosa? ma erano usati erano tutti gli tapperati? no guavì che bello cavolo non ce l'avevo usato dai eh vabbè sono usato giu aspettami devi correre eh ma io sono di twitter muori ah vai no ne sono due dai una chile cavolo non ce ne puo più però non ce l'avevo dai io faccio per adesso solo una chile e pizza vabbè ma è dopo dentro quella cosa quella casetta che cosa è? ah non ci sono tutta la nostra squadra quella cosa che? un colpo un colpo un colpo mi hanno dato e sono morto uno uno come? come? io gliene do centomila e non muoio no lui me ne da uno e io muoio ovviamente ma guarda che io ho un caricatore con un suo video no c'è questo ma noi cantaranno pure un poco skype di merda tempesta c'è attenti guarda io li colpisco assia fa muri guarda che cappone aia è da dietro non c'è ma dai dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè no sei chi viva sono forte no cioè sono tre di loro che cavolo vabbè ma qua se sono così devo migliorare io la mira anch'io un botto no oddio giovani ha fatto sia a te sia a me contemporaneamente ma no cosa oddio grazie da dietro da dietro ma perchè questi forse come dicono perchè fanno uno scop quindi hanno più facilità ma no mi metto un po' un po' come l'oro no 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 raga c'è c'è una specialista che non si può vedere c'è un colpo un colpo ci dà e moriamo come si può fare c'è 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 un colpo c'è un colpo c'è chi la camperà c'è un colpo ma poi hanno delle armi nooo blanco mo ma mi sono messo anche le scopo sì mi sono messo bello check in io posso fare lo scopo dopo il mirino laser ma no no questa questa cosa è da rampeare cavolo no no raga ci ho fatti sì devi proprio evitare no, è chato, non ci vedo non è morto guarda colpa la testa li troviamo tutti noi tutti, tutti mi danno tre colpi, io muoio io gli do due colpi con le pompe e quelli non muoiono ma va fanno uno guarda guarda, non muore non muore, non muore non muore polca p***na vabbè, dai, ti aiuto pure mamma mia e vabbè, c'è quello che bolla come una forza mia attenzione vai, ma per c- attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il video termina qui, se volete altre serie di Black Ops 3 scrivetemelo nei commenti, mi raccomando bombardate di like e niente ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.